Cosa stai facendo? Ma queste qua cosa sono? Stigliole, no? Gigante? Sono stigliole alla siciliana. Ascolta, le ho sempre mangiate più piccole. Non sono alla palermitana, noi siamo alla provincia di Agrigento. È un modo particolare di farle perché non sono solo l'intestino dell'agnello, ma sono condite all'interno, con l'uovo, la cipolla e il fegato. E qui vediamo le arancine, giusto? Le arancine. Allora, sotto al ragù? Ragù, prosciutto e mozzarella e anche spiraci per i vegetariani. E poi in fondo di là ci sono le panelle fatte con la farina di ceci, che sono buonissime, si mettono in mezzo alla mafalda, giusto? La mafalda cos'è? È un panino siciliano particolare, giusto? Preparatissima, ne sai più di me al momento. No, posso lavorare anche con voi? Ok, ora faccio il giro. Grazie. Questa è la meuta, esattamente, la milza. Bollita nello strutto, è un panino tipico palermitano, nel particolare, che però si fa un po' in tutta la Sicilia. Poi invece di dolci, vediamo un po' cosa c'è qua. Allora, scappano tutti, va bene. Allora, vengo a lavorare con voi. Qua cosa c'è? Cannoli di tutti i tipi. Questi sono i cannoli siciliani, in questo caso abbiamo cannoli bianchi classici, col cioccolato, col cioccolato bianco, un'innovazione di quest'oggi, è con la nocciola. Ok, grazie. Quindi, Vercelli, venite ad assaggiare queste bontà siciliane. Anche qua, rimaniamo qua, siamo in Italia.